Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 25 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo pesci. Come in alta lena. Come in alta lena oggi partite da un punto piuttosto basso, vale a dire la luna in gemelli in quadratura al vostro segno, al vostro inquilino Nettuno e a Mercurio che lo fronteggia. Giornata no, dunque, all'insegna della confusione su vari fronti, famiglia, amore, lavoro. Aspettate però a gridare al lupo, al lupo, prima di fasciarsi la testa bisogna essersela rotta, nel pomeriggio le difficoltà paventate si vanno risolvendo quasi in automatico, mentre a coccolarvi ecco pronta la bianca signora o racquatica in cancro, legata a venere in scorpione e al vostro segno da un nastro di setta. Potrebbe voler dire tutto o forse niente, magari solo un sogno romantico, una poesia recitata a mezza voce, ma potrebbe anche indicare un incontro fatale, una riappacificazione quasi incredibile, un ritorno di fiamma magico come una fiaba a lieto fine. Eventi imprevisti, anche di notevole portata, sul fronte degli incontri ci sono buone nuove, ma anche in amore non mancheranno le novità. Avete bisogno di controllare la situazione e governarla per venirne a capo, mettete in campo tutta la vostra abilità e autorità. Oggi vi sentirete particolarmente attratti da alcune persone, e in particolare da una. Vi sentirete come scaventati in alto e poi discendere bruscamente al solo vederla. Fate le vostre considerazioni e cercate di non darlo a vedere. Non portate rancora per alcuni dispiaceri che vi potranno dare delle persone a voi care. Fate perno sulla loro sensibilità e spiegate i motivi del vostro disappunto. I vostri sforzi potrebbero essere premiati, le vostre attitudini, la vostra buona volontà potrebbero regalarvi dei successi meritati. Amore ancora con luci ed ombre dovute a Mercurio che blocca la comunicatività con il partner. Poche speranze oggi di avere un chiarimento con un vostro conoscente. Sembra indifferente ad ogni vostra sollecitazione. Una persona a voi cara vi sta pensando e sta cercando il modo per rifarsi vivo. Se un ariete o un gemelli presto si farà vivo con un sms. Oggi rispolverate la vostra rubrica e telefonate a quella anche amico o amica che non sentite da tempo, vi aiuterà, con i ricordi, a superare questa fase. Venere oggi vi sorride, ci sono concrete possibilità ad incontri nuovi e interessanti, anche se siete già impegnate il vostro cuore potrebbe essere incuriosito da persone nuove. Attenti alle persone che potrebbero approfittare della tua bontà. La fortuna camminerà al tuo fianco esaudendo molti tuoi desideri. Se avete necessità economiche, sappiate che questo è un periodo favorevole per prestiti o cessioni di quinto. Non fermatevi alla prima occasione ma esaminate più proposte di prestito. È un momento magico per voi, vi elegge a uno dei segni più fortunati del momento. Esalta oggi il vostro fascino venere in scorpione, vostra vera protettrice celeste, infondendovi una carica di sex appeal se appartenete alla prima decade. Come se non bastasse, anche Marte si dispone a formare un aspetto favorevole se siete nati nella seconda decade, donandovi quella grinta vincente capace di farvi sbarazzare di ostacoli. Se frequentate abitualmente la palestra, vedete effetti strepitosi sul fisico che si avvicina a quello di un atleta. Tuttavia, Nettuno nel vostro segno apre a nuove letture di romanzi e saggi, al godimento di spettacoli teatrali, a film d'avanguardia. La mattinata non è delle migliori, cielo nuvoloso sotto tiro della luna in gemelli in quadratura al vostro segno, capitanato comunque da Nettuno che bisticcia con Mercurio in vergine all'opposizione. Non sarete voi però i vincitori, troppo sensibili ed emotivi rispetto alla logica ferra dell'altro. Che si tratti del partner, dell'interlocutore o di chiunque venga in contatto con voi ne uscirete frastornati o quantomeno delusi. Cambio di passo provvidenziale nel pomeriggio grazie al passaggio della luna in cancro, segno acquatico intrigono non solo al vostro e al romantico inquilino Nettuno che si riprende e torna a parlarvi d'arte, di natura e spiritualità, ma anche alla bella Venere, anch'essa acquatica in scorpione. Riflessioni e meditazioni vi aiutano a ritrovare il filo conduttore di voi stessi. Amore ed eros. Malumore in famiglia, succede spesso al risveglio, ciascuno perso ancora dietro ai propri sogni o alle preoccupazioni per la giornata che l'attende. Il partner vi incita a sbrigarvi accusandovi di essere sempre i soliti tiratardi trasognati. Lo troverete d'umore completamente diverso in serata, felici di abbracciarvi e pronto a fare micio micio. Sempre che voi non gli teniate il muso. Certo che no, il romanticismo fa parte del vostro personaggio e non appena vi si sfiorano le corde del cuore, più sensibili di quelle del pianoforte, vi sciogliete come zuccherini. Qualche bel bacino ed è fatta. Tenerissimi anche i vostri figli, grandi o piccini volete loro un gran bene e se nell'età ingrauta le rispostace non mancano, li sgridate ma non date alla cosa più peso del dovuto. Anche voi ci siete passati, eppure con la vostra famiglia avete un legame splendido, crescere è sempre un passaggio difficile e voi avete la sensibilità e la delicatezza necessaria per capirlo e non infierire. Lavoro e denaro Faticosa la mattinata, vi svegliate già stonati, stanchi all'ora della pausa caffè, cosa che vi attira a qualche rimbrotto da parte del socio o del capo che non ve le manda a dire. Dovrebbero lasciarvi in pace invece, perché quando il genio crea bisogno di silenzio e di tranquillità, se vi di disturbano i risultati saranno inferiori alle aspettative. Migliore il pomeriggio e ancor più la serata, quando finalmente vi ritrovate nel vostro elemento, liberi di esprimervi secondo i canali preferiti. Ispirati dalla luna sfornerete meraviglie, buoni anche gli investimenti con guadagni superiori alle vostre più rose e speranze. Benessere. Giù di corda al mattino, su nel pomeriggio, il pranzo può fare la differenza. Mettendo nel piatto alimenti ricchi di vitamine, di minerali e soprattutto masticando con calma, cosa che vi permette di trarre dal cibo tutta quell'energia vitale che gli hindù chiamano prana, circolante per tutto l'universo. E guai a mettervi fretta, il pasto, ripetevano gli antichi, è un momento sacro, da vivere in silenzio ringraziandogli dei per questa opportunità. Altro rituale fondamentale per tutti, ma in particolare per voi segni d'acqua sono il bagno e la doccia purificatori, rientrando a casa dopo essere stati sui mezzi o in giro per tutta la giornata, vi godete le vostre abluzioni per la vita di prima di mettervi comodi e godervi una cena leggera, necessaria per nutrire lo stomaco, ma ad alimentare il cuore provvederanno carezze e baci del partner. Si va a letto presto stasera, ma non necessariamente a dormire. Bella pelle, b e i capelli, ottima forma, siete davvero sempre voi quelli che stamani apparivano così stanchi, stonati, imbronciati e incapaci di svegliarsi anche dopo due espressi? Ebbene sì e chi vive in sintonia col cielo lo sa. Per lei, come nelle favole, un incontro fatale tra persone che lavorano e vivono lontane l'una dall'altra, ma è proprio questa la magia dell'attesa, questo desiderarsi a distanza cementare l'intesa, che già va prendendo la piega della progettualità. Per lui, una difficoltà, una delusione non sono la fine del mondo, prendetela come una prova iniziatica che vi sgombrerà il cammino futuro. Il primo segnale di riscossa già nel pomeriggio, il resto del percorso lo scoprirete vivendo. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.